No, è stata una settimana arrivata dopo una vittoria, quindi abbiamo lavorato sicuramente con molta più spensieratezza e serenità, non tralasciando comunque il fatto di sapere quanto è importante la partita di sabato e quindi di attraversare una settimana con la mentalità giusta. Prima di Livorno c'è Venezia, Venezia penso che sia la tappa fondamentale del nostro percorso perché senza Venezia non c'è Livorno, quindi Venezia l'importante è andare lì, cercare di fare la nostra partita come sappiamo e sapere che possiamo vincere benissimo e se non potremo farlo di essere una squadra matura e di poterci portare a casa sicuramente dei punti. Io credo che siamo in debito con la fortuna, ci sono state partite dove siamo stati veramente sfortunati, potremmo vincere e quant'altro, sicuramente una vittoria ti dà quella spinta in più di allenarti con maggiore entusiasmo, con maggiore spensieratezza, non tralasciando comunque il fatto che sappiamo di essere ancora nella zona play-out, quindi dobbiamo cercare di essere ancora più rognosi e incazzati per cercare di uscire da questa zona. Il Venezia, soprattutto quando gioca in casa, è una squadra molto compatta, chiusa, dove trovare spazio è difficile, poi loro ultimamente stanno giocando con un 3-5-2, diciamo che è l'impronta dell'allenatore attuale che è Cosmi, però a prescindere dai moduli, secondo me dobbiamo pareggiare il livello di agonismo e di radia, se pareggiamo quello poi i valori tecnici potranno venire fuori.